Torniamo a parlare del progetto europeo AdriSismic, che vede anche il PLE tra i suoi otto partner provenienti da sei diversi paesi e che è uno strumento fondamentale per prevenire il rischio sismico dei centri storici urbani e mitigare gli effetti distruttivi del terremoto in un'area geografica particolarmente colpita, quella adriatico-ionica. Ho studiato la geologia strutturale, quindi come geologista potrei dire che viviamo in una delle aree più sismiche in Europa, ovviamente, e questo è quello che l'erthquake è uno dei rischi che tutti i regioni mediterranei facevano. E dal passato, e dai studiati che abbiamo fatto come geologisti, sappiamo che l'erthquake succede molto presto in ogni regione mediterranei e questo è qualcosa che non dovremmo perdere. E anche l'esperienza dice che il prossimo disastro arriverà che non dovremmo perdere la prima volta. Quindi, dobbiamo sempre essere attivi e ricordare dove viviamo e quali sono i rischi che stiamo facevano. E uno strumento per minimizzare la nostra vulnerabilità e minimizzare l'impacto di un rischio possibile, è di essere ben preparati e di sapere in cui sappiamo, in cui sappiamo, in cui sappiamo, in cui sappiamo, in cui sappiamo i rischi e questi impatti. E' questo motivo, ci stiamo investendo molto in training e l'educazione. E questo è anche parte dell'attività che abbiamo sviluppato sotto un progetto adresistico, in cui abbiamo sviluppato una platforme Moodle, in cui molti programmi educativi sono attivati. Alcuni di questi sono attivati per i praticiani, per i servizi e anche per i lavoratori, ma c'è anche uno che è concentrato per i volontari, perché crediamo che tutti i persone possono aiutare nel caso di un disastro e possono essere utile e aiutare l'unico e la nostra comunità per overpassare i rischi.